Lucia Bosè è tornata oggi in tv precisamente a domenica in nel salotto condotto dalla bella, brava e simpatica Mara Venier e proprio Lucia Bosè si è commossa a microfoni o meglio a telecamere accese, infatti la bella donna in questione seduta stante si è commossa innanzi a Mara Venier Mara Venier sempre più brava nel condurre il programma in questione, insomma non entro nel merito, non voglio entrare nel merito perché non voglio andare a leggere la prevasi di Lucia Bosè però faccio sapere a tutti che non è passata inosservata proprio la sua presenza all'interno di domenica in nel programma condotto da Mara Venier vi ringrazio infinitamente per la visione e per l'ascolto di questo video di oggi, datemi i vostri pareri, datemi le vostre, chiamiamole opinioni un saluto caro da Leandro, narratore italiano Lucia Bosè, sei una grande, sei meravigliosa, fantastica Grazie